Bello ragazzi, bevamo nel centro salgi perché non si mette a fuoco la telecamera, non si sa. Ti metti a fuoco, perfetto. Oggi vi mostrerò i peperoncini di mio padre, che c'è una scarsa produzione. Anche qui, Anto. C'è qui? Aspetta. Aspetta, qua c'è la pianta dei peperoncini arcobaleno. Come vedete c'è giallo, nero, rosso, questo è giallo, verde, verde. Insomma, tutto. Siamo persi nella foresta amazonica, raga. Aspettate che vi faccio vedere quello con più peperoncini. Soprattutto qui, guardate ragazzi. Cioè, guardate quanti ne ha, ragazzi, li vedete? Sono un po' mimetizzati. E c'è anche qua? Sì, bellissima. Poi, e non è finita ragazzi, c'è anche gioia. Ciao, che io non so, un peperoncino. Vabbè, sì, sono un peperoncino. Sì, sono un peperoncino. No, un attimo, un attimo. Perché prima siamo questi, che non ho visto se si crescono. Aspettate ragazzi che vedo senza te la camera, un attimo, ok? Si vede tutto scuro un po'. Vieni qua. Poi ci sono questi. Poi quelli arancioni li conosco benissimo, ma abbanero mustard. Vieni qua, gioia. Sì. Aspettate ragazzi che vi faccio vedere tutti prima, senza toccarli perché questi qua scottano. Bellissimi. Poi, raga, vi porto all'ultimo. Questi come si chiamano, papi? Papi, questi come si chiamano? Giammariglio. Ok ragazzi, sono di Giammariglio. Giammariglio, Bugiolocchia, Abbanero, Abbanero mustard. Sì. Perfetto. Naga Moric. Quattro, mi incadrami che voglio farvi vedere la mia maglietta nuova. Ragazzi, il mio maglietta nuova è Napoli, perfetto. Guardate pure la mia. Antonio, ragazzi, perfettissima maglia. Wow. Aspetta, è la surprise ragazzi. Mi piacciono un sacco sul capo. E ragazzi, ci abbiamo pochi peperoncini. No, tantissimi. Ora stai inquadrando mio padre, che inquadra pure meglio. Vedo, papi, voglio farvi vedere gli ultimi, quelli di là. Quindi andiamo a vedere? Ragazzi, dobbiamo correre. Non è vero, non sono peperoncini. Sto stai riprendendo malissimo. Ragazzi, qua non lo so se sono peperoncini. Chiaramente sono peperoncini. Quindi ti scorri di mostrande uno. Una pianta. Guarda. No, un peperoncino. Devo mostrare solo i peperoncini. Le piante peperoncini. Oh ragazzi, stavo cadendo. Porca vacca. Porca vacca. Porca vacca. Ok ragazzi. Questo video. No, c'era pure una qua. Papi, fammi una foto in mezzo. Aspetta ragazzi che devo passare in mezzo alla foresta. Aspetta, papi inquadrami. Che devo fare, che devo salutare. E ci vediamo in un prossimo video ragazzi. Sì, questo era un video speciale. In cui mi mostrevo le piante. Ciao ciao. 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 Ciao ciao. Ciao.